La droga ti chiude tutte le porte dell'amore dell'amicizia del domani Ti senti senza via d'uscita ma c'è una porta sempre aperta per ritrovare se stessi e guardare avanti Dal 1978 San Patrignano aiuta tanti giovani a costruirsi un futuro anche grazie a te dona il tuo 5x1000 a San Patrignano Aiuta tanti giovani a rientrare nella vita Grazie